ok ragazzi rieccoci qui su gta 5 io sono bizzar e siamo pronti a un nuovo video gameplay questa volta dopo esserci arricchiti con il colpo alla giornalieria michael ha invitato franklin a festeggiare a casa sua e quindi noi quando si tratta di bere specialmente gratis approfittiamone vai friendly vai guidiamoci tutti a casa di michael tutti sono freddi ok eccoci arrivati a casa di michael e andiamo a festeggiare il colpo che abbiamo appena fatto nel frattempo che comincia a piovere cori 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 che piove signor michael ehi già stai bene ando voglio aspetta so we all good hell yeah we all good we did yeah you fucking ain't right we did so here's the shot lester's offloading the gems he knows a guy get us 50 cents on the dollar and we might actually have a little spending money left that we pay off that it's gotta be besides i didn't have nothing to do with it whatever the hell it is you're talking about huh really oh hey albert story had a lucky escape when the thieves ran straight into it yeah i was just doing my job and i say to this guy hey you gotta move these bikes i don't know anything about that and this other guy runs out of the shop he pushes me over and says something like you forget thousands of things every day make sure this is one of them and ecco anche trevor mentre si scopa una ragazza you want to get lit now sugar tre trevor baby you want you want to smoke up now don't do it johnny don't do it trevor i told him we all get high we all get high but that don't make it right leave it the crystal has got us baby don't make it right don't make nothing right not what you done with me i'm telling johnny leave it i ain't leaving nothing trevor i'm talking to you motherfucker are you what are you saying what are you saying fucking my girl man it's wrong oh i gotta fuck someone you want me to fuck you instead is that the problem here take off your pants i lost what's fuck you think this is funny get them off i told him to leave it trevor i told him leave it leave it shut up ron i'm about to fuck me a method ain't i cowboy get my boy sucked from his toothless gums fuck you trevor oh i still love her alright cowboy hey i know hey come on shh i don't mean nothing by it man i know i know cowboy it's okay man yeah yeah shh i don't think that's violent who who i'm talking to you huh fuck huh next time don't get in my fucking face i just saw a fucking ghost and i gotta hear your crap get up get up fuck you then the wheels are in motion we gotta reach out to the rest of them che devo, ah devo trovare la sale sul pick up e niente quindi Trevor si è accorto di Michael e togli Tiron si è accorto di Michael e quindi che cosa vuole fare raggiungi Dash Pay wait this ghost I saw his name is Michael Townley sounds like he's living in Los Santos find him really uh my cousin's there but I don't find him wait does this mean I don't have to come see the bikers we're in a hurry but not that much of a hurry but if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley you was in then they don't need to find out about it you think it's clever to disrespect women? comunque ragazzi GTA è fantastico cioè dalla città di Los Santos a queste grandi e quasi desertiche meraviglioso e poi Trevor che pazzo ma pensa adesso stiamo andando a andare ai lost mi sa si ok hey you seen Ashley Johnny's looking for her well you know as a matter of fact I just did just 10 minutes ago yeah I saw her on the end of this penis here Johnny ain't gonna be cool if you messin with her again oh really well you don't think so huh well why don't we just ask him then huh hey hey cowboy you mind that I fucked your old lady sorry what was that well what no no you don't mind oh because you're a dead man e l'unica sentiente parte a la lefta è questo piccolo cervello e il gristolo all'interno della mia bocca beh, grazie a te molto, cavoio oh, mi piace il denaro questa è la prima parte del processo di grittura ragazzi, ora guardiamo le mani sembra che hai qualcosa che vuoi dire hai qualcosa che vuoi dire? ma roba, che pazzola ora ragazzi, a me è tre por piace andiamo a farli fuori guardiamo, l'uchidario è quello sull'amore dai wade che cazzo muoviti non ti sei fatto niente vero wind ma non lasciati fermo che cazzo sono d'acqua ma donna e adesso il furbore comunque tremo a questa cazzo di auto non è un 4x4 perché slitta a mare sento quello dove è andato, non è cazzata di qua giusto osservazione affermati 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 guarda nel cuore del tutto mi è arrivato il gatto ragazzi e voi siete i troppi e qua c'è uno qua dietro dove cazzo sta guarda dai uscita merda qua c'è uno del giocotto di proiettile però da brutta non è che ne sono rimasti due forza qua cazzo sei un pazzo trevor tu coi sotto a chi tocca ancora mio vaffanculo e muori torno al pick up guardi lì gli altri che scappano guardalo guardalo dai dai vattene vattene così almeno non cari dà un pick up il becino vattene non iniziamo nel final ho lungo il tronco canale spingere l'altro il fiume cortegra come la faccio in acquiesetto e dai la trago phillips enterprise il bilaccio ortega si bilaccia con il classico fucile a pompa il ginocchio bello spariamo un po' vicino alle palle paura che facciamo risparmiamo o lucidiamo bassi di risparmio anzi no io sono trago phillips è trago phillips non risparmia nessuno anche perché ha appena visto un fantasma e quindi sta incazzato quindi ciao ciao ovvio che fosse un serie tremor forse bellissimo troppo dei personaggi ragazzi raggiungi la casa di roll eh sì tremor è proprio michael io mi pensavo che era morto tu stai cercando a presto sì sì il f***o ghost che ho parlato è vivo? è andato è andato è andato è andato è andato è andato che qualcuno ha chiesto di pensare che è morto! Mi sono scoperto quando ho pensato che era morto! Non sono scoperto ora! Ma il Townley è in Los Santos e ha un'esprimazione di fare! Si potrebbe essere cercato a te prendere in giro! Questo è un'idea consapevolezza di farlo, anche per te, Ronald! Grazie a tutti. Grazie a tutti. D'accordo ragazzi, la misura finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre commentate sotto al video, aiutatevi a crescere, commenti e condivisioni gradite e al prossimo video. Ciao a tutti.